Via, via! Partiti! E' in vantaggio Nina Nusei davanti a Big Antonia, Alda Shock, Golden Pepita, Distant Beach, Pur, Fantasy, Maria Valentina e Ledio Fert. Dopo 300 metri di corsa, Alda Shock e Nina Nusei conducono davanti a Big Antonia, Golden Pepita, Distant Beach, Pur, Fantasy, Maria Valentina e Ledio Fert. All'inizio della curva torna in vantaggio Nina Nusei davanti ad Alda Shock, Big Antonia, Golden Pepita, Maria Valentina, Distant Beach e Ledio Fert. Poco prima dell'ingresso in vantaggio Nina Nusei davanti ad Alda Shock, Golden Pepita e Maria Valentina. I cavalli entrano in dirittura con Colden Nusei in vantaggio, con Nina Nusei in vantaggio davanti a Distant Beach, Alda Shock, Maria Valentina, Big Antonia. Si avvantaggia Nina Nusei davanti a Alda Shock, Distant Beach e Big Antonia. E' facile Nina Nusei davanti a Alda Shock attaccata all'esterno da Distant Beach. Altro che BTP a 10 anni, caro Peppe. 12% in un minuto e 20 secondi. Che ne dici? Bene!